Il mortale si potrebbe tirare la mano qua. Ecco il brazzo. Si. Ehi. Fuori. Qua. Ma che fa? Qua. Vai a prendere il corso da più possibile. Qua. Così, oppure la posizione è questa, stai qua e spingi sul discorso pure bene, poi stiamo all'interno del mio fondo, dai che prendiamo un po' tu? Ok, non ti do, prendiamo un po' tu. Capito? E tra 20 minuti da te e tu ti chiedo di tre, attraverso il discorso. Capito? Perfetto. Perfetto. Si, si, non lo sai. Perché lo sai solo? Perché lo sai solo? Ok. Non? Non. Perfetto. Perfetto. Ok. Perfetto. Ok. Ora si, qua. E chiudi qua. E chiudi qua. Qua. Fammi allungo. Poi la metti in doggio, la metti in doggio. Ma secondo me è che fai qua. Sì. Qua come stai accendendo? Ah, ok. Così? Aspetta, però poi stai tirando, stai tirando. No, no. Ma quella esistì? Che mi fa ridere, che stai che favo le cose. No poi quando sta perfetto. SM mình b도 chassata per democ tick assuming looks 좋아요ch media. Questa è grande. Questo è bene. Beh, dici comeサfer? Questo qua? A lavorare qua, inizio a lavorare qua? Eh, questo qua ma me... Qui, con ma... Ma non voglio fare questo, devo fare anche lo schifo in due dalle. Questi però ti strozzi proprio che vuoi. Questa è un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra. Questa è 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 un'altra. Perchè devi sconderli di fare lezione solo con Gianni? Sì, questo è il ragazzo. Lo vedi una garganta. Questa è un ragazzo. 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 vabbè, ok. Ecco, apri, apri qua e dovete farla capire ora di là di questo stavo scopo. Così, ecco, vai, 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 vai. Sì, va, vai, 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 vai. No, le mettete su Facebook, li ricevi a caffè, guarda che ti perde. Si, ma non ci piace spaventare. Sì, tu apri la mia mano qua, vedi? Forse, forse, forse. Ok, scusa a fare, io sono qua. Guarda qua, mi posso spostare. Quindi, quando sei sicuro che mi vai a fare nella capilla esterna lentamente? Qua? Scusa, sì, andai. E' ancora, 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 e' ancora.